Questo Matteo, questa cosa è una novità? Ciao Michela, ma beh si sapeva che prima o poi arrivavamo a questo. Allora, questo è il granchio blu. Devo stare attento a come parlo. Non ti dico che è molecato, perché i produttori di voi è che si potrebbero offendere, c'erano ragione. È il granchio blu nel cambio muta. Sono riusciti i nostri covolanti ad identificare il periodo nel quale anche questo cambia la muta. E come vedi, abbiamo la prova che si comincerà a commercializzare anche il granchio blu nel cambio muta, quindi tenero. Perché l'arte della moleca è un'arte, vedi, per dire che queste sono le mie esche che mi hanno portato per pescare i branzini. Questo si chiama spiantano. È il granchio nostro, comune di Laguna, nella fase del pre-cambio muta. Non è neanche ancora una moleca. Allora, il granchio, quando è duro, spiantano. Quando sta cominciando a prepararsi per il cambio muta, vedi, sotto c'è già la pelle morbida. Vedi, se io guardo così, vedi, sotto c'è già la zampina morbida. Questo in poche ore toglie via il vecchio carapace e ancora in poche ore diventa duro. Nella fase da morbido a duro viene chiamato struzzo, quindi c'ha tre nomi per identificarlo. Granchio, quando è duro, spiantano quando si sta preparando per la nuova muta, vedi. Struzzo, quando si indurisce, poi di nuovo granchio. Vedi, esempio, noi per andare a Branzini, facciamo così. Lo spogliate. Lo spogliamo, esatto, per mantenere la polpa. Una volta fatto questo, vedi, si potrebbe anche mangiare, dicono che sia squisito anche così. Anche crudo. Vedi, e questo è un ottimo bocconcino per il Branzino. Vedi, e questo è un ottimo bocconcino per il Branzino. Vedi, e questo è un ottimo bocconcino per il Branzino.